Giovanni Pico della Mirandola oggi sarebbe una star, era bello, ricco e intelligentissimo e soprattutto dotato di una memoria prodigiosa che è rimasta appunto leggendaria. Tutti lo chiamano Pico della Mirandola non sapendo forse che Pico è il cognome e non il nome, perché Giovanni invece è appunto il nome di battesimo e ha costituito di fatto una sorta di archetipo dell'uomo intelligentissimo della grandissima memoria, tant'è che perfino i fumetti di Topolino hanno creato il personaggio di Pico de Paperis ispirato appunto a Pico della Mirandola. Ma soprattutto è stato un grande filosofo, è un uomo che riusciva a trattenere nella memoria intere opere parola per parola sbalordendo la platea di allora.